Lenzuola, drappi rossi, scarpe rosse, piazze gremite. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, anche in Veneto si sono ripetute manifestazioni e flash mob per combattere una piaga che vede ogni anno circa 130 donne vittime di omicidi. Nel 2013 casi eclatanti anche in Veneto, come quelli del poliziotto triestino che ha sparato la moglie Silvana Cassola a Padova, dell'avvocato veronese in carcere con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata Lucia Bellucci e dell'omicidio e suicidio di Montebelluna con la 22enne Denise Morello colpita da un proiettile alla testa. Noi pensiamo dunque che bisogna agire su più livelli, dare a queste sicurezza, avere più case rifugio, avere poi strutture che aiutino psicologicamente alla ricerca di un lavoro per queste donne che hanno subito, subiscono violenza. A Venezia flash mob in Campo San Geremia dopo le manifestazioni analoghe di sabato scorso a Padova e Venezia ed ieri a Trieste. Le ho viste, loro, i loro volti dai libidi celati, loro, gli ematomi nascosti tra le cosce, loro, i loro sogni rapiti, le loro parole azzittite. In Regione le richieste di aiuto sono aumentate nel 2013, mediamente del 50%. Solo a Padova le donne che si sono rivolte al centro Veneto antiviolenza, convenzionato con le ULS, sono passate da 370 a 640, quindi di fatto raddoppiando. Le richieste di aiuto sono in aumento. Questo dato però non deve farci confondere, nel senso che la violenza purtroppo è sempre presente e accompagna le donne quotidianamente. I nuovi presidi nel territorio, i numeri verdi, ricordiamo il 1522 e anche il nostro numero verde, permettono alle donne di poter avere una richiesta di aiuto. Quanto l'identikit della donna vittima delle violenze è quanto mai vario. Spesso vivono un disagio anche economico, ma sempre più appartengono anche ai ceti più alti della società e per il 70% sono italiane. La fascia d'età copre dai 18 e supera gli 80 anni, quindi sono donne con non solo fasce d'età ma socioculturali diverse, sono sia donne straniere, moltissime le donne italiane, abbiamo per cui un 70% di richieste da parte di donne italiane, circa un 26% di donne straniere. Disponibili dal 2013 alcune case di fuga, appartamenti protetti, dove le donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze, che sono comunque meno del 10% del totale, possono trasferirsi immediatamente anche con i figli per sfuggire alle possibili ritorsioni dell'uomo. Ogni caso è diverso dall'altro e presuppone tanta sofferenza.